Un'ampia e profonda depressione, con il minimo al suolo attualmente sul Golfo di Viscaglia, si muove lentamente verso Levante. Sul Mediterraneo occidentale la pressione risulta in graduale calo. Tutto ciò continua a favorire un flusso di correnti umide e mite sulle coste tirreniche della penisola italiana. In Toscana sabato 23 novembre molto nuvoloso coperto con piogge nottetempo sulle zone nord-occidentali, temporanea attenuazione delle precipitazioni nel corso della mattinata. Dal pomeriggio nuovo peggioramento con piogge e rovesci più diffusi in estensione dalle zone costiere occidentali alle zone interne. Venti forti di scirocco in arcipelago e sul litorale centro-meridionale, da deboli a moderati altrove. Mari inizialmente molto mossi in aumento ad agitati o molto agitati i bacini meridionali con mareggiate sulle coste esposte allo scirocco. Temperature in aumento sia minime che massime. Sul territorio provinciale da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge anche intense in serata. A Lucche sulla Piana temperatura minima 10 massima 16 gradi. A Castelnuovo Garfagnana e zone montane minima 9 massima 15. A Via Regge sul litorale minima 14 massima 18 gradi. Domenica migliora con cielo generalmente nuvoloso. Temperature massime in aumento.